Che indicazioni si possono trarre da questa prima partita all'infamilia? Sono indicazioni positive, innanzitutto siamo contenti perché non si è fatto male nessuno e in questi periodi di preparazione con grossi carichi qualcuno potrebbe risentire degli affaticamenti Invece tutti hanno finito la partita senza problemi muscolari o guai fisici Per quanto riguarda questa prima tre quarti, perché manca ancora poco, questa prima tre quarti di preparazione sono soddisfatto della volontà, dell'impegno che i ragazzi stanno mettendo quotidianamente e per adesso mi accontento di questo Abbiamo visto un ottimo ritmo pure per essere ancora in una fase di preparazione, è quello che vuole lei? Dobbiamo violentarci sotto questo punto di vista perché dobbiamo entrare nell'ottica che le partite vengono vinte sicuramente con un livello fisico importante con l'attenzione alla tattica che è sempre opportuna ma l'intensità fisica e mentale e la ricerca della posta piena io penso che sia la cosa più importante Cosa si aspetta da quest'altra settimana di lavoro che comincerà domani? Anche se domani sappiamo che la squadra sarà libera però da martedì in poi Mi accontenterei che i ragazzi continuassero a lavorare così come stanno facendo e che si finisse il ritiro senza nessun infortunio importante che si ripuplano Grazie a tutti Grazie.